Io di solito faccio sempre una domanda, decidi di uscire insieme alla tua fidanzata, al tuo fidanzato eccetera eccetera Invece questa sera voglio fare un'altra cosa, voglio parlare con Claudia Claudia, tu sei venuta qui a Temptation Island perché il 7 agosto è la data del vostro matrimonio Sei qui perché avevi dei dubbi, oggi quei dubbi sono risolti? Sì, 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 sì Io non l'ho sentito Sì, sono convinta, sì sì, mi è bastato guardare gli occhi Con gli occhi marroni, bellissimi Grazie Siamo Sei una s***a mazziamo Ti sposerò perché Stai, decidi di tornare a casa con la tua fidanzata? No, ho deciso di tornare a casa con mia moglie Claudia, decidi di tornare a casa con il tuo fidanzato? Sì, con mio marito Ok Posso portarla via? Sono stracovinto che sarà una cosa ci sta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti